Via dei Matarassai è un luogo dove tutt'oggi si può sentire il respiro del mare che arriva dalla cala e porta con sé le storie del mare. Via dei Matarassai è dove è iniziata la storia dei Florio, è una strada molto piccola, tutt'oggi conserva le caratteristiche tipiche del centro storico di Palermo, quindi strade strette, molto tortuose, in cui i palazzi sono quasi appoggiati l'uno agli altri. È in questa strada che inizia la vicenda umana e commerciale dei Florio e la cosa ancora più particolare è che tutt'oggi sembra quasi potersi respirare, questo è lo stesso tipo di atmosfera che si respirava circa 200 anni fa. Talvolta capita quando passo, quando ancora passo per questa stradina, è di alzare gli occhi e cercare un po' i balconi della loro residenza. E a volte è l'immaginazione a regalarmi questa immagine, questa immagine un po' che mi emoziona. Mi sembra quasi di vedere Giulia, Giulia Portalupi, oppure ancora Giovanna Dondes che magari sono lì sui loro balconi o che sono affacciate alle finestre. Ed è un'emozione molto strana perché sembra quasi che il passato e il presente si sovrappongano. Però nel libro, appunto, Nell'inverno dei leoni, io ho immaginato che Giovanna Dondes non amasse molto questa casa, proprio perché è immersa in una dimensione popolare, in un contesto che è quello del mandamento di Castellammare che era improntato ai commerci, che era tutto volto verso il mondo della ricchezza, dell'attività commerciale. E cionostante non posso non pensare che il legame della famiglia Florio rimanga fortissimo con questa strada, con questo luogo. Per il resto anche Ignazirio, il marito di Franca Florio, nasce a Piedeini, Materassai. Ed per me è importante sentire, vivere quei luoghi e sentire quelle emozioni, proprio perché in questo modo davvero si possono riportare all'interno della storia, all'interno della carta stampata. Ed è, secondo me, la chiave attraverso cui una storia non diventa semplicemente parole, ma diventa una vicenda di vita.